Luca! Luca! Chi è? Abruzzi? Abruzzi, Luca Abruzzi? Vai Luca! Vai col mister, su Luca! Luca? Luca? Mi riconosci? Chi sono io? Vai, su! Non pare... Qua è il gruppo dei piccoli amici di mister Antonello Ucci, ora non c'è, c'è mister Nicola Di Campli e c'è mister Matteo da quest'altro lato. Questo gruppo, che sono dei più piccoli, 5-6 anni massimo, si allenano qua al coperto, anche se oggi era una bella giornata d'utore, un bel pomeriggio, temperatura a mite, potevano stare anche fuori i ragazzini. Come ho sempre detto, più si coprono e più si ammalano, invece si devono abituarsi pure a giocare fuori. C'è Luca, c'è Luca che è incavolato. Luca Abruzzi è incavolato, Luca. Luca perché sei incavolato? Luca perché sei incavolato? Ci parte uno? Me lo dico a mamma, quando riparto lo dico pure adesso, su, fai il bravo, su, Luca. Qua c'è altri tre, Bebi, Bebi, alcuni, anzi la maggior parte non hanno ancora la divisa, la scuola calcio, la classica divisa. La scuola, la risposta è data che sono nuovi di quest'anno. Stiamo aspettando i kit per i ragazzi. Quattro e tre. Il mister Matteo, stai là. Questo addirittura c'è la maglietta della Spagna, del Barcellona, Messi. Bravo, bravo, ok.